Ti vado a questo punto Quando ormai eri già all'interno della tua carriera da imprenditore Per capire quali sono state invece le sfide Faremo un po' Ti farò alcune domande una collegata all'altra La prima è Quali sono state le sfide durante il tuo percorso da imprenditore Magari, non so, tre sfide Perché alla fine ce n'è più di una Tantante Esatto Quelle che possono essere due o tre sfide particolari Che hai affrontato durante il percorso imprenditoriale Ma te ne racconto tre La prima sfida sicuramente è stata quella di passare dalla mentalità E dalle pratiche, dal libro professionista diciamo a quello di impresa E quindi la delega, assumere persone Cominciare a ragionare a livello di conti e di amministrazione In maniera un po' più sviluppata Quell'aspetto lì che è accaduto nel 2020 È stato abbastanza complesso Perché mi sono ritrovato improvvisamente C'è stata una crescita molto rapida Io ho cominciato, diciamo, l'impresa è nata alla fine del 2018 Ok La consapevolezza imprenditoriale è nata agli inizi del 2019 Ho fatto tutto il 2019 in lenta crescita E poi nel 2020 con anche l'influsso della pandemia Che chiaramente ha spostato le persone ferme, no? Online C'è stata un'impennata Io, fammi pensare Ho fatto sei per nel 2020 Ok? Quindi chiaramente i numeri sono aumentati tanto E mi sono ritrovato prima ero da solo Poi ho cominciato a prendere persone Insomma è stato complesso Quindi questa è stata la prima sfida Il passaggio a ragionare in modo differente A ragionare in termini anche più a lungo termine Di piani Mentre prima facevo un progetto Poi quando andavo Ok qual è il prossimo Ho cominciato a essere costretto A dover pianificare Ad anni di distanza A fare cose un po' più complicate Questa è stata la prima sfida sicuramente La seconda sfida che ti direi È stata la sfida della Della gestione Del passaggio post pandemia Perché in pandemia Un po' tutti Quelli che hanno fatto delle imprese digitali Sono andati molto bene 2020-2021 È stato un po' L'era dell'oro Perché tutti erano in casa Non facevano niente Stavano davanti al computer Quindi tutti i prodotti Tecnologici andavano molto bene Però poi il 2022-2023 Sono state delle sfide differenti E noi siamo riusciti A continuare a crescere E questo perché Abbiamo aumentato di molto La produzione E abbiamo cominciato a Occuparci un po' più seriamente Anche di advertising E di gestione aziendale In maniera un po' più così E poi la terza sfida Che è una sfida che sto vivendo oggi È una sfida difficile Non l'ho ancora vinta Quindi è una sfida complessa È la sfida dello scalare Dell'uscire un pochettino Dal circolo Dell'organico su YouTube Diciamo così E di chi ti conosce Cercare di farla diventare Un'azienda davvero grande Ed è complesso È complesso Perché quando arrivi a un certo livello Superare quella cifra Devi fare molti investimenti Assumere persone Prenderti anche dei rischi diversi Io sono sempre stato molto conservativo Con i rischi Sono in una fase aziendale adesso In cui bisogna rischiare un po' di più Se si vuole crescere A un alto livello E quindi adesso sono nel mezzo della sfida Della scalata vera Ed è molto esaltante Però anche molto stressante E molto difficile Bucca al lupo Quindi diciamo che le sfide Sono state un po' Nei momenti di cambiamento Se ho capito bene Sì E anche l'idea Scusami ti aggiungo questo L'idea del cambiamento Ma anche l'idea del Abituarsi al fatto Che quando una cosa va bene Non ti devi appoggiare Ma anzi Quando le cose vanno bene È il momento di preparare Il cambio Se noi ci fossimo appoggiati Nel 2022-23 Quello che era successo Nel 2020-2021 Avremmo fatto come la maggior parte Delle aziende di questo settore Che hanno fatto così E poi sono crollate Abbiamo continuato a crescere Perché non ci siamo Adagiati sugli allori Ma abbiamo continuato a investire E quando le cose andavano bene Già preparavamo I momenti difficili E questo è un po' la chiave Assolutamente Tu poi mi dicevi che Il periodo 2020 Hai avuto il boom Tu però eri già online Quindi diciamo in qualche modo È stato Avevi lavorato Non so se consapevolmente Per il covid Ovviamente nessuno poteva Prevederlo Però diciamo che tu Eri già partito Tempo prima Lavorando Già creando una presenza online E poi quando è arrivata l'occasione Tu eri in qualche modo Già partito Il timing Nel mondo imprenditoriale Ma in realtà In tutte le aree della vita Secondo me Il timing L'essere al posto giusto Nel momento giusto È molto importante Cioè Chi guarderà questa trasmissione Magari ha l'idea in testa Dell'imprenditore geniale Che prevede il futuro Sono balle La verità è che la fortuna Ha un ruolo Cruciale Il vero Talento dell'imprenditore È quello di essere in grado Di accorgersi Quando sta passando il treno E salirci sopra Cioè È la fortuna Che incontra la preparazione Che incontra la preparazione Che incontra il talento Ma Le condizioni esterne Fanno tutto Quindi Questo per esempio Il 2024 È sicuramente un periodo Molto difficile Molto difficile Noi vediamo Adesso Andiamo ancora bene Però vediamo che Per esempio Dobbiamo spendere di più In advertising La gente vende meno È meno online Cioè ci sono dei momenti difficili Se l'azienda fosse nata Nel 2024 Sarebbe stato molto faticoso Farla partire Chiaramente Io avevo già investito Sull'online prima Perché ho cominciato appunto Con la divulgazione nel 2016 Quando è arrivato il 2020 Avevo già Una serie di asset preparati Quindi ero già pronto Diciamo che Quello che noi abbiamo visto È che il trend Era lo stesso La pandemia Ha accelerato Quel trend Di 3-4 anni Cioè saremo arrivati Allo stesso punto Ma ci avremmo messo 3-4 anni di più Ok Tra l'altro Una cosa che voglio Aggiungere Se vuoi Il percorso Che ho fatto Per i ragazzi È questa cosa Della preparazione Cioè nel senso Di prepararsi In modo tale Che quando c'è L'occasione Tu sei pronto Per sfruttarla Perché a volte Magari Nel momento in cui Non sei preparato Per un motivo O per un altro O non la vedi Proprio non lo vedi pensare O non hai Gli strumenti Per poi Sfruttarla O non la vedi O non la vedi O non la vedi O non la vedi